Eh, guardate i bambini, non vedete? Guardate bene quel sposa c'è. Sì, questo è il presepe di Dante Pina. Sì, ci sono pure io qui, mi vedete? Facciamo un giro che me lo faccio vedere. Ma non si muove? Ah, sì, si muove! E' che c'è un sacco di gente qui. Oh, guarda il Gesù che muove tutte le gambe. Proprio bravo con questo campurino, eh? Con la maestra, con gli alunni. C'è la santa, il santo. E' 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 la santa, il santo. La santa è la santa. C'è una città di raggiungere, un'epoca di calcio, un'epoca di calcio, un'epoca di calcio. Grazie